Fraudi fiscali, evasori totali, lavoro nero e sequestri, milionari. C'è di tutto nel bilancio delle operazioni svolte nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecco. Scoperti in questo arco di tempo 66 evasori totali, vale a dire persone che non avevano mai dichiarato un euro al fisco. 15 lavoratori in nero scovati nell'ambito di un'inchiesta che ha portato poi alla denuncia di un datore di lavoro per capo ralato. Diverse anche le operazioni nell'ambito dell'evasione fiscale, una addirittura con risvolti internazionali e con una base imponibile non dichiarata di 168 milioni di euro. 73 le persone denunciate per reati fiscali ai quali sono state sequestrate merci e beni per 17 milioni e mezzo di euro. Dopo la pandemia i controlli dei finanzieri si sono poi concentrati anche sul fronte delle misure erogate a sostegno delle aziende. A questo proposito sono state 6 le persone denunciate per aver chiesto, ricevuto senza averne diritto, contributi per 470 mila euro. Stessa cifra è stata recuperata da 110 persone che avevano ottenuto il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Due indagini di polizia giudiziaria condotte. Nell'ambito del contrasto al traffico dei rifiuti, l'operazione Cardine, nella quale sono state arrestate 18 persone con l'accusa, fra l'altro, di associazione delinquere di tipo mafioso. Nell'ambito dell'attività contrasto dello spaccio, l'operazione Tullac che ha visto l'esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere. 7 le persone denunciate poi per reati fallimentari, 45 quelle sottoposte a controlli sulle normative antimafia con proposte di sequestro di beni per un valore di circa 39 milioni di euro. Infine 15 chili di droga sequestrati dalle fiamme gialle che hanno proceduto poi all'arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 4.